ciao amici benvenuti nel mio canale anche qui con un bellissimo video tagba buyukustun una delle attrici più famose della turchia è stata una bomba con un gesto indimenticabile da parte dei suoi fan questa sorpresa che il mondo dei dot magazine aspettava da molto tempo ha spinto non solo tagba buyukustun ma anche il suo fidanzato enjina kurek il bell'attore della sua vita privata pazzesco tuba buyukustun che recentemente ha preso parte a numerosi progetti di successo e ha ricevuto grandi consensi per la sua interpretazione è sempre all'ordine del giorno della rivista nella sua vita privata ma questa volta la notizia ha portato con sé una sorpresa insolita quando la sorpresa inviata da un fan a tagba buyukustun è stata posta davanti a casa sua il punto sensazionale non era davanti a tuba buyukustun ma è apparsa un'auto di lusso decorata con un fiocco rosso del valore di un milione di dollari la sorpresa vissuta dalla famosa attrice quando ha ricevuto questo regalo davvero speciale ha emozionato i giornalisti della rivista e i suoi fan ma ciò che ha attirato maggiormente l'attenzione nelle notizie è stata la reazione di enjina kurek caro amico e amante di tuba buyukustun che è impazzito quando lui ha saputo della sorpresa della sua ragazza dopo aver indagato da chi provenisse il regalo articio k'shovel alla fine lo trovò e restituì il regalo dicendo che tutti dovrebbero sapere il loro posto comprerei comunque il regalo da tagba non ci aspettiamo questo da nessuno tutti dovrebbero farlo fatti gli affari tuoi questo incidente che contiene la maggior parte delle informazioni sulla vita privata dei due ha suscitato entusiasmo nella spudorata stampa scandalistica e tra le foto e i video che si sono diffusi rapidamente sui social media tuba buyukustun è stata vista per la prima volta con il suo nuovo veicolo di lusso il mondo delle riviste aspettando con impazienza la reazione di tuba buyukustun e enjina kurek a questo regalo a sorpresa non vede l'ora di conoscere il dietro le quinte di questo evento i fan aspettano con impazienza di vedere come si svilupperà questo film romantico nei prossimi giorni grazie a tutti per aver guardato il video arrivederci ci vediamo con i nuovi video